Silvio Berlusconi invoca un summit con Giorgia Meloni e Matteo Salvini per dipanare il nodo riguardo alle comunali di Palermo e le regionali in Sicilia. Mi sembra che la cosa fondamentale sia essere uniti, perché uniti si vince, divisi si perde. Silvio Berlusconi, dopo essere stato da più parti chiamato ad intervenire sulle candidature alle elezioni siciliane, scende in campo per dipanare la matassa che riguarda soprattutto le comunali di Palermo. «Credo quindi che ci debba essere al più presto un incontro tra noi, fratelli d'Italia, la Lega e le altre forze politiche del centrodestra per individuare e decidere delle candidature condivise», aggiunge il leader di Forza Italia. Il senatore Ignazio Larussa ha spiegato che qualcosa si muove già. Dopo la inascoltata proposta di FDFI di rinviare ogni annuncio della candidatura Cascio a Palermo decisa senza alcun coinvolgimento nostro, il presidente Berlusconi ha chiamato Giorgia Meloni per prospettare una conference call di vertice con anche Matteo Salvini, ha rivelato Larussa. Il senatore ha, poi, aggiunto FD ha quindi rinviato di qualche ora il previsto annuncio di convergere su altre candidature, pronti a discutere solo nel caso in cui la coalizione dimostrasse di mettere al primo posto la sua unità rispetto agli egoismi, lavorando su un quadro complessivo che punti alla vittoria del centrodestra e non agli egoismi di partito. Secondo la Russa non vi è ragione di discutere la ricandidatura di Nello Mosumeci, presidente della regione uscente apprezzato dai siciliani per la sua concretezza e la sua onestà. Il senatore di FD, dunque, ribadisce, a nome di tutto il partito, l'indisponibilità ad accettare diktati incomprensibili e strategie che abbiano come conseguenza la vittoria delle sinistre, ma rimarca la volontà di avere un centrodestra unito. Grazie a tutti!